Con l'emergenza pandemia di covid in piano corso, la regione toscana quest'anno ha anticipato di un mese, da novembre a ottobre, la campagna di vaccinazione anti-influenzale 2020-2021 e ha portato a un milione e mezzo, di fatto raddoppiandole, le dosi di vaccino messe a disposizione gratuitamente delle categorie di cittadini a rischio, ovvero ultra 65 anni, altre persone a rischio di qualunque età, personale a contatto con il pubblico, operatori sanitari. A soli quattro giorni dal lancio della campagna, il cui slogan è «Al diavolo l'influenza quest'anno mi vaccino», sono già più di 412.000 le dosi prenotate da medici e pediatri di famiglia, di cui 372.000 di vaccino anti-influenzale e 39.500 di vaccino pneumococcico. Quest'anno, per la prima volta, i medici e i pediatri di famiglia possono ritirare le dosi di vaccino da loro programmate tramite le farmacie pubbliche e private, come da protocollo di intesa sottoscritto dalla regione Confeder Pharma e CISPEL Toscana. L'emergenza sanitaria determinata dal Covid ci ha spinto a fare uno sforzo straordinario per proteggere i nostri cittadini più a rischio, ha spiegato il presidente della regione Eugenio Gianni. I sintomi dell'influenza sono infatti sovrapponibili a quelli del coronavirus e le complicanze cliniche possono aprire la strada al Covid. La spesa sostenuta dall'Estar per acquistare le dosi di vaccino è stata di 6.314.000 euro. La spesa sostenuta dall'Estar per acquistare le dosi di vaccino è stata di 6.314.000 euro.